Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo all'ingresso del convento accanto alla foresteria e accanto al chiostro, questo una volta era tutto aperto, per raccontarvi quello che accadeva proprio in questo punto del convento. Ce lo racconta Maria Vinoska che ha scritto questo libro quando Padre Pio era in vita e lei racconta quello che accadeva proprio qui, qui c'erano solo delle persone un po' tra virgolette raccomandate da qualcuno, da qualche frate. Sul sagrato della chiesa c'era Maria Pail che l'attendeva e quindi la portava proprio qui. Mi spinge verso la porta che mena al convento, suona un frate socchiude, ah siete voi, nello stretto corridoio che in fondo biforca verso il convento quindi è verso la chiesa, quindi questo corridoio, ci sono molte persone che aspettano proprio qui. Riconosco qualcuno che avevo già visto all'interno della chiesa il giorno prima, il frate portinaio passa e ripassa con un'aria severa dice, poi si rasserena, improvvisamente si ode una voce, viene, viene, sta arrivando, ecco un brusco fremito attraversa il nostro gruppo che si precipita subito avanti, piano piano dice il frate portinaio, un frate poi un altro attraversando il corridoio per andare in chiesa, quelli che vengono dopo sono immediatamente bloccati. Intorno a Padre Pio, ecco lui passa sorridente, bonario, semplicissimo, affabilissimo, scrive Maria, un frate qualunque, noi siamo tutti in giro come pulcini intorno alla chioccia, chi in piedi, chi in ginocchio, senza cerimonia, nel protocollo, parliamo tutti insieme, ognuno domanda qualcosa, Padre Pio si difende quando chiedono delle grazie, domandate a Dio, non a me, poi accarezza un bambino rivolgendosi ai genitori dicendo avete visto, avevo ragione, essi poi lo ringraziano, il suo aspetto non ha nulla di un santo romantico, con la barba leggermente brizzolata, la carnagione fresca, con qualche ruga, il comportamento eretto, i movimenti rapidi, non dimostra certo l'età che ha, lui ha 68 anni, e voi, mi chiede, rivolgendosi proprio a me, scrive Maria, faccio una domanda, mi risponde esattamente in tre parole, è semplicemente come un buongiorno, ed è ciò che mi occorreva, poi mi inginocchio chiedendogli la benedizione, le mani quasi interamente coperte dai rozzi mezzi guanti, mi si posano un istante sulla testa, provo una strana sensazione, sembrava una scarica, una scarica elettrica, ho saputo poi che questa impressione di scossa, di questo fluido misterioso, è una cosa comune, allorché Padre Pio per benedire, posa appunto le mani sulla testa, tutto questo incontro clandestino, e sì perché mi sento una privilegiata, non è durato che alcuni brevi minuti e già il Padre poi prosegue il suo cammino con un passo esitante degli infermi.